Ciao a tutti amici di Film & More, sono Davide Belardo di Darumaview e oggi sono qui ospite del canale di Gold Picture per parlarvi della Steelbook di La Zona di Interesse, uno dei film più importanti e chiacchierati della scorsa stagione cinematografica che ha avuto anche un buon riscontro di nomination agli Oscar che ora è disponibile anche in questa bellissima Steelbook con 4K e Blu-ray. Non mi sarei mai aspettato una Steelbook per questo film ma onore veramente ai Wonder Picture che detiene i diritti e a Eagle che ha accettato questa sfida e ha fatto uscire questo splendido film anche in Steelbook, non parliamo di un film commerciale anche se ha avuto un notevole successo anche in sala. Ovviamente audio 5.1 HD italiano ed inglese, una buona dotazione di extra anche se molto brevi perché sono tutte clip promozionali comunque in cui il cast o il regista racconta il tema del film o quant'altro. E poi ovviamente non manca il film sia in Blu-ray che in 4K. Inutile dirvi che il 4K la fa da padrone nonostante l'assenza del Dolby Vision ma comunque con un ottimo HDR. Qui dovrò dopo darci una pulitina perché si è rimasto un po' attaccato un po' di colla. Guardate la parte frontale veramente notevole. Insomma questo è uno dei poster cinematografici del film promozionali. e poi nella parte posteriore abbiamo questo fiore, credo un tulipano aperto ma potrei anche sbagliare. Ha figura intera, ottimo impatto per questo film che ci racconta una parte drammatica della nostra storia moderna che non dobbiamo mai dimenticare. E poi all'interno troviamo anche una piccola sorpresa perché non è annunciato all'esterno del disco quando vi arriva ma c'è anche un prezioso booklet sul film. Ovviamente il disco 4K è quello da riferimento, parliamo di un film moderno girato recentemente quindi ottima qualità, nulla da dire. E poi c'è anche il disco Blu-ray, l'artwork è il medesimo. Ovviamente il master è lo stesso, qui c'è il downgrade ovviamente a 2K ma di ottimo impatto anche per quanto riguarda il Blu-ray. E ci sono un po' di extra come vi dicevo, poca roba, parliamo di all'incirca decina di minuti però comunque non fa mai male, meglio pochi che niente. E poi c'è anche una stampa interna che riprende il medesimo fiore e tutto il resto è tutto di colore nero come si conface per un film del genere. E poi come dicevamo c'è anche il booklet, booklet prezioso perché parte con una lettera del regista e poi oltre ad avere alcune foto ci presenta proprio il film perché c'è le sinossi, c'è la spiegazione del titolo, c'è l'ambientazione, quindi proprio un saggio sul film, i protagonisti. Dopo i protagonisti abbiamo un bel tema sulla messa in scena, poi abbiamo un commento sul suono del film, poi ci sono anche le note di produzione e veramente un bel po' di testo con un po' di foto e poi ovviamente c'è la parte finale che vi avevo già mostrato all'inizio. Devo dire veramente prezioso questo booklet all'interno di questa bella steelbook. Questa è una steelbook che trovate ovviamente ovunque ma io sono sicuro che il team, gli amici della Film & More vi inseriranno il link in descrizione allo store di Film & More che vi ricordo è lo store ufficiale della Eagle Picture che ha anche molte esclusive che non trovate disponibili in tutti i negozi. Se vi è piaciuto questo video mettete un bel like, se vi fa piacere iscrivetevi al canale e attivate la campanella non solo per restare sempre aggiornati sull'inserimento dei film gratuiti che potete vedere qui sul canale Film & More che escono ogni settimana. Questa è una cosa secondo me molto interessante e preziosa perché vi dà la possibilità di scoprire film e di vedere film in modo gratuito senza dover abbonarvi a nessuna piattaforma. Per questo video è tutto, noi ci vediamo alla prossima, ciao ciao a tutti.